ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un glitch che persiste ancora da un pochino di tempo e diciamo ancora funziona e volevo proporvelo magari qualcuno non lo conosce e questo glitch serve a mettere il nostro personaggio donna solo nel personaggio donna funziona e senza reggiseno ragazzi senza reggiseno quindi che cosa dobbiamo fare innanzitutto andiamo in un negozio di abbigliamento al bancone dove sono io e scegliere uno dei completi business con pantaloni e scegliere la libertina ragazzi anzi ragazze o ragazze e fatto questo andremo ad indossare una qualunque giacca purché sia aperta ragazzi intendo ecco non come questa ovviamente no perché altrimenti il glitch non servirà a sera e quindi che cosa facciamo andiamo a vedere come potete vedere io sto indossando una giacca di pelle e vedete che non ho il reggiseno non ho il filetto del reggiseno comunque non c'è nulla non c'è nulla ragazzi senza veli senza veli quindi non vi fate le segrete e niente questa cosa funziona con tutte anche le giacche normali le giacche aperte potete fare questo glitch questo glitch sono un po di patch che c'è quindi è un po vecchiotto lo presentai anche sul mio vecchio canale quindi ve lo ripropongo perché ancora funziona le scarpe ragazzi non serve che le cambiate non c'entrano un cazzo io le cambio perché quelle che c'erano non mi piacciono quindi le cambio e nulla giusto per tornare alla normalità con il mio personaggio ragazzi questo è il glitch questo è il video un saluto da maxi e al prossimo video ciao a tutti ciao 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 ciao